Buonasera, ben trovati al TG Persordi. Trema la terra a Cetona, in provincia di Siena, dove alle 11 gli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a una profondità di 2 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o cose. A questa, alle 11.37, ne è seguita un'altra di magnitudo 2.1 con lo stesso epicentro. Bancarotta colposa è il reato ipotizzato dalla Procura di Arezzo nei 17 avvisi di conclusione e indagine notificati a tutti i componenti dell'ultimo Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria, allora presieduto da Giuseppe Fornasari. Tra loro anche a Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena Boschi. Due avvisi sono stati consegnati agli ex direttori generali dell'ex istituto bancario Luca Bronchi e Daniele Cabiati. È quanto scrive oggi la Nazione. In particolare il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che coordina le indagini sui diversi filoni di inchiesta legati a Etruria, secondo il quotidiano contesterebbe lo spreco di denaro utilizzato per diversi consulenti chiamati a cercare dal dicembre 2013 un eventuale partner per la banca, all'epoca già in cattive acque, come consigliato da Banca Italia. Ora i destinatari degli avvisi di conclusione e indagine avranno 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti da IPM o presentare delle memorie scritte. I progettisti ci hanno presentato molte soluzioni per la linea 3.2 della tramvia di Firenze che dovrebbe passare per i viali. naturalmente ognuna di queste può a sua volta aprire delle difficoltà o meno. In linea generale però noi siamo soddisfatti perché è la prova che si poteva e si può fare di più. Lo ha affermato Andrea Pessina, soprintendente al paesaggio per la città metropolitana di Firenze. Il confronto fra soprintendenza e Palazzo Vecchio, ha spiegato Pessina a margine di un convegno, si era sospeso prima delle elezioni e ora sono contento di poterlo riprendere. Mi auguro anche di concludere velocemente con una soluzione che tenga conto di tutte le esigenze. Per l'ipotesi di sottoattraversamento in Piazza della Libertà e Piazza Beccaria, secondo il soprintendente c'è da verificare la possibile presenza dei resti della cinta muraria demolita alla fine dell'Ottocento. Ma siccome i sottopassi consentirebbero di ridare unità alle piazze, che attualmente sono diventate delle semplici aiuole sparti traffico, io credo, ha detto Pessina, che questo non possa che essere visto favorevolmente da tutti, sempre che si possa realizzare. Vicinanza, affetto e profonda stima per tutto quello che fate e che farete sono stati espressi dall'Associazione Casa delle Donne di Viareggio all'Associazione Il Mondo che Vorrei, in vista della sentenza della Corte di Appello sulla strage di Viareggio. Il prossimo 20 giugno, a pochi giorni dal decennale, sarà emessa dalla Corte di Appello di Firenze la sentenza del processo per la strage di Viareggio, precisa una nota della Casa delle Donne. Questi per voi sono e saranno giorni impegnativi da tanti punti di vista, pensando ai dieci anni che sono passati da quel tragico 29 giugno. Va sempre sottolineato che passare dal dolore personale alla difesa della sicurezza di tutti e tutte vi ha reso come associazione Il Mondo che Vorrei è singolarmente un esempio importante. Un progetto triennale per valutare il rischio sanitario per i lavoratori impiegati nelle aziende florovivaistiche della provincia di Pistoia è quanto prevede una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta regionale Si chiama Vivai e Salute, il progetto condotto dalla ASL Toscana Centro e finanziato dalla Regione con 195 mila euro per valutare i rischi legati alla possibile esposizione dei dipendenti all'utilizzo dei fitofarmaci. Nel triennio verrà monitorata la salute dei lavoratori, con particolare riferimento al rischio chimico, gli andamenti delle malattie professionali e dei problemi sanitari. I risultati saranno resi noti nel giugno 2022. L'attività florovivaistica interessa, spiega una nota della Regione, una parte molto estesa del territorio della provincia di Pistoia e rappresenta una delle principali voci dell'economia. La rievocazione storica della Battaglia di Colle, 750 anni, in forma di spettacolo e che occuperà un palcoscenico naturale di 15.000 metri quadrati nel Parco di Bacio a Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, andrà in scena sabato 15 giugno 2019, dalle 18 in poi. Il pubblico avrà a disposizione un percorso ad hoc tra numerose scene e ben 300 tra attori, comparse, stuntmen e cavalieri per rievocare la battaglia del 1269. Sarà ricostruita fedelmente quella giornata in cui tutto ebbe inizio, l'attesa, le gesta, l'eroica impresa e il crudo scontro. Si tratta di un progetto di Federico Fornai per la direzione artistica di Luciana Calamassi, a cura della proloco di Colle Valdelsa con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocuo cumulo diurno sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi, meno sulle coste. Al sud, alta pressione africana in rinforzo con tempo stabile e soleggiato. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi, fino a 38 in Sicilia e in Puglia. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.